Una scuola di sviluppo territoriale per evitare la fuga dei cervelli dal ferrarese e formare la classe dirigente del futuro prossimo. A tenerla a battesimo nella settecentesca casa del pescatore dell'oasi di Cannavie, a Volano, è stato il presidente Bonaccini. L'università, la Camera di Commercio e numerose altre associazioni di categoria del capologo estense hanno aderito a un'iniziativa unica in Italia lanciata da Conf Cooperative Ferrara col supporto dell'ufficio scolastico. Obiettivo comune è formare e ancorare alla città e alla provincia alcuni dei ragazzi più brillanti che già oggi rappresentano i coetanei nella consulta studentesca e che un domani potrebbero fare altrettanto con elettori e colleghi di lavoro. Il territorio è il cardine, è il centro. Molto spesso alcuni ragazzi pensano che andare via è una cosa buona perché il proprio territorio non viene valorizzato. Noi riteniamo invece che il proprio territorio sia un centro importante. Bisogna amare il proprio territorio, fare esperienze anche fuori, ma ritornare per consentirne lo sviluppo da protagonisti. A questa tre giorni intensiva di incontri e lezioni su Delta del Po partecipano 20 fra ragazze e ragazzi ferraresi delle superiori. Poi il gruppo di potenziali politici e rappresentanti di istituzioni si ritroverà un pomeriggio al mese fino a maggio con tutte le migliori intenzioni di avvicinarsi a un mondo che molti ragazzi sentono ancora piuttosto lontano. Bisogna fare in modo che i giovani rimangano sul territorio perché le opportunità ci sono, bisogna crearne ulteriori e fare in modo che appunto i giovani rimangano qui nella provincia. Avremo la possibilità di conoscere meglio il territorio in cui noi stessi viviamo, ma che spesso probabilmente sottovalutiamo anche. Quindi è un'opportunità da tanti punti di vista che ci è stata data e quindi perché non coglierla.